Un'Europa che non salva le persone in mare e le lascia morire è un'Europa che non esprime umanità. Noi ci stiamo battendo, come tutti sanno, il Parlamento lo sta facendo, io lo sto facendo, perché ci sia una iniziativa europea per salvare le persone in mare. L'abbiamo ripetuto a Sua Santità e anche al Cardinal Parolin e credo che ci sia da parte loro molto interesse. Abbiamo bisogno di salvare le persone, stiamo parlando di migliaia di persone, non di milioni di persone, e di mettere in mostra che certamente i temi dell'accoglienza sono molto importanti, dell'integrazione sono molto importanti, ma quelli del salvataggio della vita è ancora di più.